Il direttore generale dell'Asra di Salerno, Lebolitano Antonio Giordano, conclude dopo meno di due anni il suo mandato e ritorna all'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli nel ruolo di commissario al posto di Giuseppe Matarazzo. Il suo incarico negli uffici di Vianizza sarebbe dovuto durare tre anni, ma è stato richiamato a guidare la struttura sanitaria che aveva lasciato quando era stato inviato all'azienda locale salernitana. La notizia è stata comunicata con una nota dalla Regione Campania che ha anche chiarito quale sia il mandato affidato ora a Giordano. Nelle prossime ore si procederà all'avvicendamento. In un quadro di stabilità si continuerà nel consolidamento dei programmi di sviluppo dell'Aorno Colli e dell'obiettivo di completare e potenziare, come previsto, l'area dell'emergenza urgenza.